Dal massacro indiscriminato di cittadini sinermi, dall'attacco militare della mafia, dalla barbaria del terrorismo, dall'assassino a fradimento dei servitori dello Stato, di politici, sindacalisti e giornalisti. Stati, trozi, anche dopo la resistenza hanno continuato a morire per difendere la nostra libertà e la nostra democrazia e allora ci inchiniamo ancora una volta alla loro memoria, abbracciamo le loro famiglie, sentiamo come fosse nostro il loro dolore. E' anche grazie al loro sacrificio che l'Italia ha superato con coraggio quella fase sensibile della sua storia. Ma si tratta di una ferita dolorosa, una ferita ancora aperta. Tante, troppe di quelle vite perdute nelle piazze, sui treni, sugli aerei non hanno ricevuto giustizia. In tanti, troppi casi, le istituzioni non hanno saputo dare una parola di certezza sugli eseditori e sugli strateghi del terrore. Questa mancanza di verità e giustizia è una sconfitta per le istituzioni. Per questo ci tengo a dire proprio oggi, qui, il 25 aprile, che mi unisco a quanti chiedono l'abrogazione completa e definitiva del segreto di Stato per i reali di strada e terrorismo.